Il segreto è, innanzitutto non c'è un solo segreto, ma in effetti non ce ne sono affatto nello stesso tempo, perché il segreto o comunque la strada è quella di saper scegliere buoni prodotti, buone vere prime, avere la giusta competenza, quindi la padronanza della tecnica, la passione, la cultura, la voglia di andare oltre, un sacco di ingredienti, è un canale di un minestrone e quindi non c'è un solo segreto e nello stesso tempo non ci sono segreti.